Levatevi, lo dico una volta sola. Lui ti paga solo per conoscerti. In un mondo virtuale. Voilà, sei bravo. Protetto dai sistemi di sicurezza più avanzati. Sì, è lui, ci scommettono. Noi entriamo da telefono, aggeriamo il firewall, sganciamo l'IDA e aspettiamo seduti i soldi. Sono depositati i loro sogni. Sono a dove? Ho deciso di annullarla, l'operazione. I loro segreti più profondi. Finisci il lavoro, Stanley, e riavrai il tuo filo. Dai produttori di Matrix. Quello che l'occhio vede e l'orecchio sente, la mente creme. Che succede? John Travolta. Ali Barry. Hugh Jackman. Codice Swordfish. Domenica alle 21, sul 20.